Buongiorno, ben trovati al saluto acquatico di Swimbeads. Siamo in federazione, la Federazione Italiana Nuoto, con il commissario tecnico Cesare Butini. Buongiorno a te, ben trovato innanzitutto. Buongiorno a voi, ben arrivati. E tu 50 anni fa, dove eri? Ma 50 anni fa ero già nato e devo dire, facevo i miei primi passi proprio al Foritalico, perché io sono entrato nel Foritalico, nei centri iconi del Foritalico, nel 1965, proprio a 8 anni. Ti ricordi, perché siamo qui, iniziamo e parliamo perché la prossima settimana saranno 50 anni da quella tragedia che ha portato via il fiorfiore del Nuoto Italiano e che è rimasta un po' dentro tutti noi. Perché io ricordo, da ragazzino, stavo a Torino e la prima cosa che vedi in piscina fu la foto di Chiaffredo, di Norora. Ma sicuramente fu una tragedia immane, nel senso che veramente fu annientata un'intera generazione, tra l'altro molto promettente, di nuotatori. Quindi sicuramente è stato qualcosa che ci ha colpito, anche noi che ci eravamo avvicinati da pochissimo a questo sport. Quindi sicuramente è qualcosa di importantissimo. Ma è qualcosa che al di là di tutto nel tempo è rimasta viva, perché anche la frase famosa che il tempo lenisce ogni ferita, devo dire che questa sicuramente la ferita è stata colmata, ma il ricordo assolutamente no. Perché veramente, e in questo devo dire, è stata bravissima la generazione, nell'ambito anche di organizzare ormai nel tempo un memoria, un trofeo che appunto è in memoria di questi... Campionato a squadra. Campionato a squadra, è in memoria appunto di questi giovani atleti, ma anche di tutto quello che era lo staff. Ricordiamo che è deceduto un tecnico, è deceduto un telecronista, quindi sicuramente era un'importante situazione. E noi l'abbiamo sempre tenuta viva. E questo, devo dire che forse è il modo migliore per onorarli. Noi abbiamo cercato sempre di onorare questi compagni di specialità, quindi di disciplina sportiva, dando il nostro massimo impegno, sia come organizzatori, ma sia anche come atleti. Quindi questo penso che sia nell'ambito dello sport il modo migliore per onorare qualcuno e tenerne viva la memoria, perché deve essere per noi un riferimento. E' come che parallelamente, dal cielo, loro continuassero a nuotare con noi, perché la grande famiglia del nuoto, insomma, come hai detto giustamente tu, non si dimenticherà mai di questi grandissimi nostri interpreti della Vasco. Ma sicuramente sì, rimane un ricordo vivido, un ricordo che secondo me anche da parte nostra abbiamo il compito importante di tramandare alle generazioni, perché ho anche un po' il dubbio, ma sarebbe il mio grosso rammarico che noi avessimo una generazione adesso di nuotatori che non fosse a conoscenza di questa grande sciagura che ci è capitata 50 anni fa e apprezzassi in modo concreto con quanta forza la federazione mantiene vive il ricordo di questi atleti che devono, torno a ripetere, essere per noi un riferimento per una crescita di quello che deve essere il nostro movimento. Senti, quanto è cambiato questo nuoto? Perché leggevo il libro di Francesco Zarzana, L'ultima bracciata, e nelle pagine molto intense che raccontano questi personaggi, questi atleti, mi ha colpito il fatto che ad esempio Bruno Bianchi o Chiaffredo di Norora lavoravano, studiavano e nuotavano e facevano le Olimpiadi. Cioè, voglio dire, sembra un altro mondo, ma è un mondo mitico, mitologico qua, se vogliamo. È un mondo un po' di altri tempi veramente, nel senso che prima, non dico che ci fosse dilettantismo o quant'altro, c'era meno esasperazione, ormai le discipline sportive, soprattutto quelle che hanno una visibilità maggiore, che sono sport olimpici, mantenendo in ogni caso lo spirito sano di quello che è l'agonismo, quindi di quello che è la competizione, di quello che è il giusto allenarsi. Però è cambiato molto, ormai bisogna essere professionali e anche professionisti. Quindi su questo è importante mantenere, essere molto quindi coscienti e conoscere bene la materia di cui si parla, quindi conoscere non solo la teoria dell'allenamento, tutte quelle cose che sono importanti, ma anche il nostro ambiente, ma anche per gli atleti, sicuramente è diventato un qualcosa che per emerge bisogna dedicarcisi in un modo quasi verticale. E questo mi fa soltanto un rammarico che, come hai detto tu prima, alcuni di questi atleti riuscivano a coniugare lo studio con lo sport, questo in Italia è un pochino più difficile. E anche col lavoro, perché voglio dire che Alfredo Chiora faceva il disegnatore alla Fiat, che era anche poi la sua società di appartenenza. Quello che posso dire è che i tempi sono cambiati, le metodiche di allenamento sono cambiate, lo posso dire non soltanto su quello che è proprio il vissuto di questi atleti, ma anche quello che è stato il mio personale vissuto. Le metodiche di allenamento che io come atleta ho sostenuto non sono le stesse che si propongono ora, quindi è cambiato tutto, è cambiata anche la biologia delle atleti, è cambiata anche quelle che sono le aspettative. Siamo nel 2015. No, siamo nel 2016, diciamo. Lo so che tu vorresti tornare un po' indietro perché è un anno utopico questo. No, no, io vorrei già stare al 23 di agosto, stare in vacanza, figurate un po'. A proposito, cinquantenario ovviamente di Brema e questo è l'anno olimpico. Come siamo messi? Qual è il polso della situazione? Perché so che tu giri, stai monitorando tutti quanti i nostri big, dalla Pellegrini a Paltrinieri, insomma. Ma devo dire, lo stato dell'arte è uno stato ottimo, nel senso che il percorso che abbiamo intrapreso dal 2013 sta andando nella direzione giusta. Gli ultimi due manifestazioni importanti alle quali abbiamo partecipato, sia Gazan che anche Netanyiaco, gli europei di Vasca Corta, hanno dato dei buoni riferimenti. Da questi bisogna partire, tant'è vero che siamo partiti ormai nella stagione 2016 con i nostri collegiali. Adesso domani torneranno da Tenerife i velocisti che hanno svolto un ottimo lavoro. Partiremo adesso a breve, nella prima settimana di febbraio, con i fondisti nei due collegiali d'altura che si riuniranno poi tutti insieme a Forloder dove troveremo anche un altro raduno dei velocisti mirato poi alla partecipazione a una gara a Orlando. Quindi sicuramente stiamo entrando nel vivo della preparazione per l'Olimpiade. L'Olimpiade è alle porte, ormai non possiamo nasconderci di nulla. È chiaro che il crocevia di passaggio saranno le selezioni di aprile e di maggio con gli europei. È una stagione complessa, come tutte sono quelle olimpiche. Però devo dire, monitorando un po' gli atleti, c'è tanta tranquillità ma allo stesso tempo tanta determinazione che è quello che secondo me è importante. Dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato negli ultimi anni, tranquilli ma determinati, perché l'obiettivo che andiamo a prefiggere è un obiettivo ambizioso secondo me, partecipare a una Olimpiade nel modo corretto e soprattutto utilizzare quelli che sono gli atleti più esperti abbinando, come abbiamo fatto in questi ultimi 12 mesi, anche gli atleti più giovani che stanno crescendo in una direzione giusta. Senti Cesare, qualcuno nel Circus del Nuoto ha già provato a testare quelli che stanno dalla parte di qua del mondo la gara in notturna, perché Rio sarà evidentemente per esigenze televisive una gara in notturna. Qualcuno l'ha fatto o qualcuno non l'ha fatto? Qualcuno ha rinunciato a farlo. Qualcuno ha rinunciato, la Pellegrini mi sembra che la prossima settimana farà un altro giorno. Non è la Pellegrini, la Federazione del Nuoto andrà... Specifichiamo, no? La Federazione del Nuoto, avevamo in programma, lo dico per dovere di cronaca, avevamo in programma di farlo questa settimana, lunedì, martedì, mercoledì, queste che sono, se vogliamo usare dei test di verifica, di quelle che sono proprio le situazioni simulando quelli che saranno gli orari di gara che incontriamo a Rio. Una piccola precisazione, al mattino le gare saranno alle 13, le batterie e le finali alle 22. Quindi vuol dire spostare tutto, ma non soltanto una specie di fuso, spostare tutto quello che sono le abitudini. Andremo i ragazzi a cenare, a tornare al villaggio a Rio, chi sarà impegnato nelle gare, intorno alle 24, una di notte, quindi significa veramente spostare tutto. Poi significa anche gestire gli atleti che non hanno gare, è un'olimpiade veramente atipica in questa. Complessa. Complessa. E anche l'interagire con le altre discipline, noi avremo, se vogliamo, un'olimpiade completamente avulsa dagli orari delle altre discipline, perché arriveremo la notte al villaggio e la mattina, quando gli altri partiranno alle 6, noi dovremo dormire. Quindi già questo sarà... Un turbamento del sonno veglia. Ma c'è anche un turbamento, non solo il turbamento, anche nei rapporti con le altre discipline, perché noi dormiremo quando loro gareggeranno, quindi sicuramente diventa una cosa complicata e complessa, come dicevi tu. Abbiamo in programma questo, siamo stati costretti a slittare la settimana prossima appunto per l'impegno che avevo io con Brema, di dover andare... Sì, perché ricordiamo tu la prossima settimana, il 28, sarai a Brema all'aeroporto. Esattamente, siccome c'era il rischio che con l'aereo del mattino, perché purtroppo per arrivare a Brema bisogna passare necessariamente da Roma, non avrei fatto in tempo, rischiavo di perdere la coincidenza su Roma, quindi abbiamo concordato con Matteo Giunta e con gli altri di posticipare di una settimana e faremo questa verifica dall'1 al 3 di febbraio. Cosa che faremo analoga anche su Roma, con gli atleti su Roma. Quindi su questo cerchiamo di simulare per... Perdonami, gli atleti su Roma vuol dire il centro federale di Ostia? No, non il centro federale di Ostia, ma degli atleti velocisti che sono distanziali a Roma. Quindi parlo del gruppo eventualmente di Claudio Rossetto, il gruppo di Mirko Nozzolillo. Quindi cercheremo di simulare situazioni che andremo a incontrare a Rio, perché vogliamo creare un'agenda, capire quali sono le eventuali sensazioni e percezioni da parte degli atleti per poter essere pronti chiaramente arrivare a Rio e non inventare nulla e quindi essere pronti a tamponare le situazioni che noi dovremmo affrontare. Quindi questo è chiaramente il progetto, è un progetto in sinergia fra gli atleti, le società e la federazione del nuoto, ma organizzato e indetto dalla federazione del nuoto. Se ti dicevi che ad aprile si parte con la qualificazione olimpica, ma quale sarà l'ultimo step per agganciare il pass olimpico? Allora noi cercheremo di concludere la qualificazione dell'Olimpiade entro maggio. Tu hai parlato di aprile, aprile dal 19 al 23 faremo i campionati assoluti a Riccione. Lì sarà la prima occasione per poter conquistare il passo olimpico attraverso l'ottenimento di un tempo limite. Le nostre tabelle sta sul nostro sito, il nostro regolamento è fruibile da tutti. Una seconda occasione sarà agli europei di Londra, quindi parliamo di un intervallo di tre settimane. Io mi auguro che l'80-90% della squadra possa essere chiusa in queste due occasioni. Ci riserviamo comunque un completamento della squadra, vuoi per il completamento delle staffette, vuoi anche per dare spazio a eventuali prestazioni particolarmente rilevanti, ci diamo spazio come deadline con il nostro sette golli che quest'anno è posticipato nell'ultima settimana di giugno. Quindi diciamo dopo giugno la squadra deve essere per forza chiusa. Bene, grazie, sei stato molto gentile. Grazie a voi. Siamo prossimamente sui canali col commissario tecnico Cesare Butini. Grazie a voi. Grazie.